in questo caso perde la stabilizzazione video andiamo a effettuare uno zoom andiamo a 4x facciamo un po' lo zoom registrazione video in questo caso perde la stabilizzazione video andiamo a effettuare uno zoom andiamo a 4x facciamo un po' lo zoom registrazione video QHD Galaxy Tab S2 da 8 pollici A presto